Eccoci qua, il grande giorno è arrivato. Ore 5.30 del mattino, non ho dormito praticamente nulla. Mi aspettano 4 ore e mezza di auto per arrivare a destinazione, per poi iniziare a faticare. Ieri ho investito una buona parte del mio pomeriggio per preparare tutto nei minimi dettagli. E spero di non aver sbagliato nulla, perché il primo viaggio di quest'anno è la memoria e gli automatismi sono arrugginiti. Come le gambe, ancora impigrite dall'inverno. Nelle ultime settimane ho fatto finta di seguire un programma di allenamento, come facevo ai vecchi tempi. Ma in realtà tutto si è ridotto a completare una serie di uscite, di cui solamente una lunga. L'idea di un giro epico di tre giorni in bici, bivaccando a caso due notti in tenda, c'è venuta ai primi di marzo. Ti andrebbe bene fare la roba selvaggia allora? Come ci organizziamo? E ci organizziamo che ci portiamo le nostre mitiche attrezzature. Come abbiamo fatto l'altra volta? Ci devo pensare. Così abbiamo ridimensionato il piano a una notte al bivacco d'Arshade. Angelo lo conosco da anni. Con lui ho condiviso i migliori viaggi bici. Quelli più folli, quelli più avventurosi, quelli più emozionanti. Di lui mi posso fidare. A turno abbiamo sperimentato quei momenti di crisi in cui non ce la fai più e pensi che l'unica possibilità è fermarsi. E tutte le volte ci siamo fatti coraggio e siamo riusciti ad arrivare alla fine. Iniziamo a pedalare verso le 11 belli carichi, sia emotivamente sia per i 7-8 kg che abbiamo addosso. Vogliamo pedalare assieme per tre giorni. Percorrere tanti più chilometri ci sarà possibile per vedere tutto quello che riusciamo nel geoparco delle Alpi di Alta Provenza. La contropartita sarà faticare come dei dannati, ma a noi va bene così. L'intenzione è arrivare alle Best Arshade e dormire nella Caban Pastoral. Ovviamente, non per il percorso più diretto, ma per goderci un bel po' di sentieri, siamo disposti a farci una cinquantina di chilometri e duemila metri di dislivello. Quando decido di partire per un'esperienza come questa è perché ne ho davvero bisogno. Ho bisogno dell'essenziale, di impegnarmi per la banale sopravvivenza. Siamo solo a metà quando il cielo diventa scuro, si alza il vento e sentiamo i primi tuoni. Guardando la cresta che dobbiamo superare ci rendiamo conto che i fulmini sono proprio là, in faccia a noi. È sempre dritto. Appena entriamo nel bosco facciamo il punto della situazione e decidiamo di scendere velocemente in una forra. Il sentiero è poco battuto e in breve capiamo il perché. Sto facendo qualche voce. Impossibile arrivare al bivacco oggi. Rientriamo digne le ben, mangiamo un boccone e ci sistemiamo in una delle poche camere disponibili in tutto il paese. Il giorno dopo siamo decisi a riprendere il nostro itinerario da dove l'abbiamo lasciato, in modo da passare la seconda notte, domenica, alla cabanne d'Archeil. Mi riempio le tasche di calorie e valutiamo che non importa se non possiamo più cancellare la prenotazione del bed and breakfast che avevamo già pagato. Arriviamo alle case provenzali di Entrage e siamo di nuovo sugli ultimi metri di itinerario percorsi ieri. Le terre nere con la luce limpida di questa mattina non incutono lo stesso timore di ieri. Mentre diamo uno sguardo sulla ripida parete verso cui siamo diretti, che sembra proprio una scogliera di un oceano prosciugato, notiamo il sommet de Cuart. Il paesaggio lunare delle terre nere si è formato nel giurassico, quando una grande quantità di sedimenti argillosi e calcarei si depositarono sotto il mare. Il sollevamento del massiccio alpino e l'erosione hanno modellato questo ambiente minerale. La gira poi. Noi dobbiamo andare là. Ce n'era una bassa e una alta. Per qualche ragione ho deciso di fare quella alta. Solo che poi dobbiamo assolutamente scendere un pezzo e prendere acqua. Il paese? Non so se è quello, forse è quello dopo, perché io non ce l'ho più. Che figo! Non troviamo nessun altro tipo di acqua? No, a parte quella dei rii da filtrare. La sotto non si vede il pastel a faie e non si capisce come sia possibile guadagnare il versante opposto, ma in realtà il sentiero è quasi tutto pedalabile in salita anche se gli ultimi metri ci trasformano in scelpa. Non siamo i soli e vediamo molti materassini agganciati agli zaini. Così ci fissiamo che siano tutti diretti al nostro bivacco. Ma ci tranquillizza il pensiero che arriveremo molto prima di loro. Il passo esiste veramente. Ora si tratta di aggirare il sommet de qua per raggiungere la nostra capanna. Dove siamo sì arrivati prima di tutti gli altri, perché comunque non verranno qui. Ma non siamo comunque soli. Quanti posti ci sono? Perché c'è pieno? Questi sono uno, due, tre, quattro. Ma sotto non c'è niente. Non c'è niente? No. Cioè non c'è neanche un mazzo di legno. Cioè volendo si sta, per terra però. Vedi qua c'è il pavimento. Sì sì, l'acqua di lando è qui qua. Ah, ok. Sì sì. E se non sopra andiamo a vedere com'è. Perché mi sa che qua a sto punto dormono sti quattro. Alla fine però appuriamo che gli altri stanno sbaraccando e ci consigliano il piano inferiore per il calore della stufa. Ci sistemiamo quindi sul pavimento di cemento. Idea malsana. Le mumie sono pronte. Andiamo a raccogliere acqua e ravviviamo il fuoco. Dopo aver messo gli alcolici al fresco, convinco un angelo titubante a metterci in cammino per raggiungere il vicino sommet du guar. È stato ovale con il vino. Bye. Ciao, ciao. Oh. Cheers. Yeah. What do we do? vieni qua, fai una foto qua, guarda che bella, ripresa nel vetro, guarda che arte c'è un po' lì, c'è un po' lì la mattina inizia a freddo con la discesa per il sentiero intagliato nelle pareti verticali che ci aspettano dall'altra parte del colle dove angelo può divertirsi a sfoggiare la sua sicurezza tecnica sui tornanti e poi ancora qualcosa quando finalmente arriviamo alle terre nere si apre ai nostri occhi la vastità di una distesa che sembra essere stata estrapolata da un altro pianeta le nostre ruote rotolano su dune enormi e ripide e ci esaltiamo come dei bambini superando delle strette creste argillose dove si vede a malapena la traccia lasciata da chi ci ha preceduto il viaggio la vita affrontati con le nostre forze arrivare alla fine lascia sempre il formicolio in pancia l'amicizia la solitudine condivisa immobilizzati davanti al fuoco dentro la capanna del pastore il mondo la terra i colori profumi e noi due piccole vite il ricordo la sensazione del bello la solitudine condivisa immobilizzati davanti al fuoco dentro la capanna del pastore la solitudine condivisa immobilizzati davanti al fuoco dentro la capanna del pastore